Seguire la linea che ha cominciato a dimostrare... Ma è molto interessante per il nostro caso. Pensa che non possiamo andare avanti con il mio senso. Non è che ora... E' evidente... ... che ris ölta la chiamo. Nel caso... ...i li ho potuto aspettare i dueci. ... se studiare un paio, ... questo tipo... ... della rafferzione di meia... ... e dalla città di un certo punto... ... e la differenza del mio senso... ... e la città di un nuovo processo... ... ha fatto anche un po' di parte, ... questo tempo ha fatto un'altra cosa. L'idea è proprio di accompagnare con una funzione statistica importante il nuovo assetto avviato e quindi la statistica permette nelle condizioni i nostri amministratori di avere un quadro aggiornato, dettagliato in modo da poter orientare le proprie scelte, una statistica che consenta anche ai cittadini di avere il quadro della società in cui vive e anche di esercitare quella funzione importante della democrazia che è il controllo, la verifica degli effetti delle politiche degli amministratori. Le province come le città metropolitane sono diventate le case dei comuni e quindi la loro funzione è proprio di associare, di mettere insieme un sistema di raccolta di dati e di gestione dei dati statistici del paese e d'altra parte più rendiamo uniti questi processi e più servono perché senza dati non si può programmare e se non si programma non si avranno servizi efficienti per i cittadini i cittadini che sono poi alla fine l'obiettivo più importante, i cittadini, i loro bisogni e i servizi che servono. Grazie per la visione!